Ripartiamo con un nuovo anno pastorale e questo è veramente particolare e speciale rispetto a quelli che finora negli ultimi anni abbiamo vissuto insieme. C'è un appello, un appello del Papa per il nuovo sinodo universale, cioè dei Vescovi, che è proprio sulla sinodalità, cioè sul camminare insieme di tutti i cristiani, tutti, nessuno escluso. E anche la Chiesa italiana si mette in cammino sinodale, quella della Chiesa italiana addirittura durerà fino al 2025. Cammino sinodale, sinodalità significa tentare di ascoltare tutti, di far sì che ciascun fedele, non soltanto i preti o alcuni, possano esprimere la propria chiamata, il proprio carisma, il proprio talento e anche esprimere il proprio parere, perché su quale direzione la Chiesa deve assumere nei prossimi anni, quindi in qualche modo essere chiamate a collaborare ai processi decisionali anche nel cammino della Chiesa, quindi significa ampliare, ascoltare tutti. Ovviamente la Chiesa non è una democrazia e ci sono dei carismi diversi, c'è un'autorità, ma è chiaro che l'autorità, cioè i pastori, debbano profondamente ascoltare il popolo e poi tentare di discernere anche tra voci che talvolta sono discordanti, chi va da una parte e chi va dall'altra. I pastori, il Vescovo, soprattutto il Santo Padre, sono il segno dell'unità che cerca di ricondurre, di far camminare uniti tutte appunto le pecore del Greggio, cioè tutti i fedeli di Nostro Signore. Quindi adesso che stanno uscendo le mie nuove indicazioni, che soltanto annunciano questi eventi che cominceremo a percorrere dall'ottobre prossimo, possano essere lette nelle cosiddette indicazioni pastorali per l'anno 2021-2022. L'appuntamento è al 20 di ottobre, quando ufficialmente qui, con una solenne celebrazione in cattedrale, apriremo il cammino sinodale della nostra Diocesi.